Questo anno ricorre il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri avvenuta nel 1321. Per tale occasione sono state programmate molte iniziative e manifestazioni sia in Italia che nel mondo. Intanto ricordo come il 25 marzo sia stata indicata come giornata ufficiale per il Dante Dì. Una giornata dedicata alla memoria del grande poeta e naturalmente molte scuole saranno impegnate per iniziative. Anche la società Dante Alighieri ha programmato per quest'anno una serie di celebrazioni. La società Dante Alighieri è stata fondata alla fine dell'Ottocento da un gruppo di studiosi e dito letterati tra i quali il grande poeta Giosuè e Carducci. La società, la sede centrale Anto Roma, opera attraverso quasi 500 comitati, 90 dei quali in Italia, e il resto sparsi nelle varie aree del mondo, nei cinque continenti, si va dall'Australia, all'America, all'Africa, all'Europa e all'Asia. La società attraverso questi comitati insegna la lingua italiana nel mondo, ma non soltanto la lingua italiana, perché diffonde anche la cultura del nostro paese nei suoi vari aspetti, dal patrimonio culturale, ai luoghi, alle bellezze naturali, ai costumi, alle tradizioni. Abbiamo ora organizzato una iniziativa che è dedicata in particolare agli studenti più giovani. Si tratta di una sollezione e conferenza svolta dal professor Ardo Honorati, che è uno dei più profondi e studiosi di Dante Alighieri e della Divina Commedia, avendo scritto anche molti libri in materia. Buon ascolto. È il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, fiorentino, ma sepoltò a Ravenna. È l'autore del massimo capolavoro letterario italiano, forse mondiale. La Divina Commedia, da principio Dante l'ha intitolata soltanto Commedia, Divina è stata aggiunta dopo. Qualcuno dice che è stato Boccaccio, ma altri, e io sono con loro, affermano che è stato un editore nel 1555 ad aggiungere all'aggettivo divina. Ora Dante immagina di fare un cammino nei tre regni dell'oltretomba, l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Questo accade nella sua immaginazione nel 1300, che è l'anno del grande giubileo indetto da Papa Bonifacio VIII, col quale Dante non stava in buoni rapporti, naturalmente. E in quel tempo il poeta aveva 35 anni. Ecco perché comincia dicendo nel mezzo del cammino di nostra vita. Perché la Bibbia dice che i forti vivono 70 anni. Allora vedete la coincidenza? 70 diviso 2 fa 35. È la metà del cammino della vita di un essere umano, idealmente, a quei tempi almeno. E Dante compie 35 anni proprio nel 1300. Allora immagina di perdersi nella selva oscura, che è la selva del peccato, perché ha smarrito alla dritta via quella della ragione. Il primo è una lince maculata, cioè col pello macchiato a macchie, che rappresenta la lussuria. Dante bisogna leggerlo sempre in chiave allegorica per certi aspetti. Poi si presenta un leone che gli mette ancora più paura, perché il leone, che è il simbolo della superbia, fa ancora più paura. Ma chi addirittura gli impedisce il cammino verso un colle, che era il colle della salvezza, è la lupa. Cosa significa la lupa per Dante? È l'avidità, è il volere sempre di più. È quella che Satana ha liberato dall'inferno, l'ha mandata nel mondo per rovinare gli uomini. Però a un certo momento la providenza divina fa apparire al sommo del colle ed è mattina, perché dietro ci sono i raggi del sole. Quindi Dante vede i raggi del sole, vede la costellazione dell'Ariete. Insomma, tutto quanto pone a buon auspicio. E a un certo punto, vedendo un'ombra sulla somma del colle, che è il colle della salvezza, gli chiede, aiutami, chiunque tu sia ombra o uomo. E questo signore, che è Virgilio, grande poeta latino, autore dell'Eneide, risponde, non uomo, uomo già fui, e li parenti miei furo lombardi, mantovani per patria, ambedui. Ecco, mantu a me genuit, leggerete certamente negli esercizi di latino, nato nel 70 a.C., nacque subì Giulio, quando Giulio Cesare aveva 30 anni e stava per iniziare la sua gloriosa ascesa di conquistatore del mondo antico, e poi, dice, vissi sotto il buono Augusto, l'ottimo Augusto, però al tempo degli dei falsi e bugiardi. Allora, spieghiamoci un momento. Perché Virgilio è venuto in aiuto di Dante? Perché la Madonna, in paradiso, vedendo che quest'uomo sta in grave difficoltà, chiama Santa Lucia e dice guarda che il tuo fedele sta correndo a un brutto pericolo, cerca di salvarlo. Perché Santa Lucia? Perché Dante ha 25-26 anni, aveva avuto una malattia agli occhi e si era raccomandato tanto a Santa Lucia, avendone poi in cambio la guarigione. Santa Lucia, sapendo che Dante era stato amico, innamorato di Beatrice, va da questa pregandola di intercedere presso Virgilio e di mandare Virgilio in salvezza di Dante. Vedete quante complicazioni? E sono tutte donne queste che muovono la scena. Ecco l'importanza della donna nella Divina Commedia. E così comincia questo viaggio che è chiamato Itinerarium Mementis Indem, cioè un viaggio della mente verso Dio. A un certo momento i due vedono una porta stretta sopra cui ci sono dei versi scritti con caratteri oscuri, in doppio senso, oscuri per il significato e oscuri per il colore, dove si dice lasciate ogni speranza voi che entrate. e infatti i due, che però usciranno dall'inferno, entrano da questa porta piccola e buglia. E Dante è impressionato immediatamente dai tormenti che soffrono le anime che incontra. Sono le anime degli ignavi, i quali nella vita non hanno avuto coraggio di prendere nessuna posizione, come si dice oggi, né col Dio né col diavolo. Difatti i cieli li cacciano per non essere men belli. Nello profondo inferno li riceve che alcuna gloria i rei avrebbero i berdelli, cioè non stanno bene né qua né là. E quindi siamo nell'antinferno. Questi ignavi Dante non ne nomina nessuno, dico Storo, però c'è un fiume scuro, quasi fangoso, che è la Caronte e un demonio, Caronte, dagli occhi di Braggio, cioè dagli occhi rossi, dalla barba bianca, lanosa, antica, traghetta su una nave che quasi va a fondo per il peso dei peccati di coloro che vi stanno sopra, traghetta le anime che devono poi andare all'altra sponda e dirigersi verso Minosse, che è il guardiano del secondo cerchio, il quale confessa queste anime. E sentite che strano e che invenzione che ha Dante. Indica loro in quale girone dell'inferno devono andare secondo il peccato maggiore che hanno commesso, ma sapete in che modo? Facendo girare la coda intorno alla propria vita una, due, tre, quattro, cinque volte secondo i gradi in cui devono piombare. dopo avere visto Minosse Dante e Virgilio si trovano nel cerchio dei lussuriosi, cioè di coloro che hanno peccato per troppo amore. E allora lì c'è l'incontro famoso con Paolo e Francesca che erano due cognati. Paolo era il cognato di Francesca la quale aveva sposato Gianciotto il fratello di Paolo Gianni Lozoppo era pure sembra un po' brutto e bruttarello quindi lei si è innamorata di Paolo e quindi sono stati sorpresi mentre si baciavano la bocca mi baciò tutto tremante è stato definito il verso più bello della letteratura italiana. Vengono uccisi e così Dante di fronte a questo lagrimare di Francesca che parla e di Paolo che sta zitto ma piange lo stesso sviene ecco e cadde come corpo morto cadde. Dante è meravigliato da tanto martiglio poi incontraciacco che significa maiale gli avevano soprannominato questa cosa i fiorentini perché era un crapulone di fatti sta nel cerchio del gerone dei golosi e qui Dante parla della politica di Firenze ma a noi interessa andare più oltre cioè tra i violenti tra gli iracondi allora Dante e Virgilio vedono stanno su una barca vengono traghettati in questo fiume e a un certo momento una persona che si chiama Filippo Argenti si chiamava Argenti perché metteva ai cavalli ai cavalli e ai muli metteva metteva i ferri d'argento tanto era ricco era un uomo violento tant'è vero che Dante sembra che abbia preso da lui un forte ceffone e il poeta si è vendicato a un certo momento questo si attacca alla barca come per volerla rovesciare e allora Dante gli dice via costico gli altri cani che io ti riconosco ancor che tu sia lordo pure se sei tutto sporco di fango io ti riconosco tu sei Filippo Argenti allora tutti gli altri i ragonti gli si buttano addosso lo picchiano ecco questo è l'inferno Vigilio lo abbraccia e gli dice alma sdegnosa benedetta colei che in te si incinse un po' facendoci ricordare il Vangelo quando una donna anonima dice a Gesù benedetta colei che ti ha allattato e che ti ha portato nel seno da lì si scende all'inferno vero e proprio è detta la città di dite allora Dante vede dei muraglioni come i muri delle antiche città tutti di ferro infuocato sopra ci stavano le arpie c'erano i diavoli con con i garnese di ferro in mano era tutto di colore ruggine infuocato e i diavoli dicono no voi non potete passare di qua però in quel momento Virgilio rassicura Dante gli dice guarda che tra poco verrà l'angelo di Dio il messo celeste a ordinare di aprirci le porte così accade e nella città di dite i primi peccatori che incontrano sono gli eresi archi cioè gli eretici coloro che l'anima col corpo morta fanno non credono all'immortalità dell'anima e lì c'è un incontro bellissimo di Dante con Farinata degli Uberti Dante era guelfo bianco Farinata degli Uberti era ghibellino quindi erano nemici quando quando Farinata gli dice chi furo i tuoi i primi tuoi i maggior tuoi lui gli rispose e Farinata osserva furono avversi a me ai miei primi e a mia parte cioè furono i miei nemici parole dispersi molte volte perché a quei tempi sapete si giocava in modo piuttosto violento dentro le città stato una fazione cacciava l'altra la mandava in esilio poi quell'altra ritornava mandava in esilio la fazione di prima erano le lotte fra guelfi e chi bellini poi siccome l'essere umano non è mai abbastanza soddisfatto di combattersi anche i guelfi si divisero in bianchi e neri e Dante faceva parte dei guelfi bianchi che verrà cacciato anche lui nel 1302 e in esilio scrisse appunto la commedia questo incontro è importantissimo perché due nemici due avversari che si scontrano no? però a un certo momento Dante ammira Farinata si identifica con lui perché c'è un punto importante quando nella battaglia di Montaperdi Farinata vince e stanno per tornare a Firenze questi chi bellini volevano distruggere la città e allora Farinata disse no la patria non si tocca la stessa cosa farà Dante con il tentativo della lastra del 1304 quando si distaccò dalla compagnia malvagia ed empia perché disse la patria non si tocca vedete come due avversari due nemici di 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 tanti anni di stirpe eppure si ammirano perché hanno amato entrambi la patria al di sopra del loro interesse ora sarebbe lungo raccontare tutto ma mi piace narrarvi una storia fondamentale nella divina commedia e che rende sempre attuale questo poema soprattutto perché la sete di conoscenza per Dante è stata sempre la spinta della propria vita che ha trasmesso ad altri si tratta di Ulisse e Diomede naturalmente Ulisse lo conoscete l'avrete fatta a scuola perché Ulisse è quello che con il cavallo di Troia riuscì a entrare nella città e quindi a distruggerla sta all'inferno proprio per questo motivo e poi perché aveva rubato insieme a Diomede la statua la statua nel palladio la statua di Minerva e per altri inganni è un fraudolento un uomo furbo che Dante però ammira che succede? succede questo ormai stanno già nel profondo dell'inferno molto giù Dante e Virgilio si affacciano su un ponticello sotto il quale passava una specie di fiume nero ma non era fiume di acqua era un fiume di buio era un buio nel quale galleggiavano delle fiammelle che erano la lingua siccome la frode si fa attraverso il linguaggio e Dante li vede queste lingue fiammeggianti dentro le quali andava a fuoco un'anima ma viene attratto da un fatto eccezionale da due lingue che stanno insieme una più piccola quella di Diomede e l'altra più grande che è quella di Ulisse e allora Dante chiede chi sono quei due che vanno insieme che sembrano i fuochi della pira dove furono bruciati Eteocole e Polinice Eteocole e Polinice erano due fratelli che si sono odiati in vita si sono ammazzati poi sono stati messi sulla pira perché a quei tempi buciavano i cadaveri e le fiamme si sono divise l'odio è continuato anche dopo la morte dice sembrano proprio le fiamme di Eteocole e Polinice chi sono e allora Virgilio dice stai buono fai parlare a me perché loro fur greci e i greci hanno avuto sempre nomea di essere un po' altezzosi dice però appena sapranno chi sono io perché ho narrato di loro nell'Eneide risponderanno dice lì si tratta di Ulisse e Diomede quando saranno qui li interrogheremo poiché la fiamma fu venuta a Quivi dove parve il mio duco a tempo e luogo in questa forma lui parlare udivi allora appena la fiamma è a portata di mano gli dice fateci sapere chi siete e non quello che avete fatto in vita perché lo conosciamo io sono Virgilio quello che ha cantato in alti versi le vostre le vostre avventure ma diteci cosa è accaduto dopo dopo quando siete tornati quando siete tornati nella vostra patria a Itaca no? e allora Ulisse racconta che appena tornati in patria né l'amore che doveva verso Penelope la moglie che lo aveva aspettato venti anni né quello verso il figlio Talemaco né quello verso il padre lo poteranno trattenere dal ripartire subito perché per rendersi esperto degli vizi umani e del valore vedete questa spinta a conoscere l'umanità a conoscere i vizi e il valore tutto quello che esiste nella vita nel mondo nella storia lascia di nuovo Itaca prende i pochi compagni con i quali era stato a combattere dieci anni a Troia salgono su una nave e si dispongono a partire per il Mediterraneo verso le colonne ed Ercole cioè lo stretto di Gibilterra Ercole aveva messo le due colonne sono i due monti di Gibilterra e il monte maggiore del Marocco affinché l'uomo non le trapassasse non era vietato trapassarle anche se nel 1291 Dante avrà avuto 24 e 25 anni così i fratelli i fratelli Bivaldi avevano oltrepassato queste colonne d'Ercole ma di loro non si era saputo più niente allora Dante immagina che Ulisse nel momento in cui stava per arrivare allo stretto di Gibilterra dopo il quale c'è l'osceano atlantico si volge ai compagni dice ieri compagni ieri compagni eravano vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta overco le segnò le sue riguardi da ciò che l'uomo più oltre non si metta e si rivolge ai compagni e dice e dice considerate la vostra semenza fatti non foste a vivere come bruti ma per seguir virtute e canoscenza cioè che facciamo torniamo indietro ma noi siamo nati come uomini per conoscere anche se la conoscenza ci costerà cara la grande qualità oratoria di Ulisse e il contenuto morale incitano talmente i vecchi commilitoni che lui stesso dice appena poscia li avrei ritenuti e volta nostra poppa nel mattino dei re mi facemmo ala al folle volo sempre acquistando dal lato mancino vedi il folle volo da una parte Dante ammira Ulisse perché ha sfidato il destino ha sfidato gli dèi dall'altra però riconosci i limiti della natura umana ma in questo sta la grandezza dell'uomo cioè sfidare l'ignoto anche sapendo di rimetterci la pelle questi Ulissidi questa narrazione è modernissima perché l'uomo è un Ulisse adesso vi spiego perché allora scendono verso l'equatore e arrivano dopo tanto peregrinare in mare di fronte alla montagna del purgatorio che nessuno aveva visto mai fuorché Adamo ed Eva e allora si rallegrarono dice vedi adesso noi abbiamo trovato una nuova terra chissà quale gente la abiterà noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto con un verso Dante passa dall'allegria suprema alla disperazione perché da quella terra nasce un turbine che fa girare le acque tre e alla quarta volta la fa immergere questa nave con la prua in giù e il mare la chiude come una tomba come una pieta cioè ha visto quello che non doveva vedere e ha pagato ma l'uomo è un Ulisse pensate un po' dopo pochi secoli di questo racconto c'è stato il viaggio di Cristoforo Columbo che ha scoperto l'America lui pensava di aver scoperto le Indie e da quel momento i viaggiatori i naviganti non si sono fermati più ma al tempo di Dante anche prima Marco Polo aveva fatto a piedi la strada fino alla Cina cioè l'uomo è nato per esplorare poi sono avvenuti i voli spaziali ecco perché Dante è sempre attuale non solo perché ha parlato di Ulisse ma perché ha trattato temi che nel 1300 nessuno avrebbe immaginato di pensare questo di Ulisse è uno di quei temi quanta gente ha provato ad andare verso le stelle e ci ha lasciato la vita però siamo arrivati sulla luna certo è un piccolo passo siamo usciti appena da casa sul pianerottolo ma non è poco non è poco chissà cosa ci riserverà il futuro se ci comporteremo bene senza distruggere il pianeta ora dopo questo racconto Dante e Brigiglio scendono ancora giù verso la fine la fine dell'inferno e voi avrete sentito senz'altro parlare del conte Ugolino che si è mangiato i figli però non è vero che se li ha mangiati nella Giudecca giù in fondo proprio dove ci stanno i traditori dei commensali dei parenti degli amici di chi si fida è il peccato più grave questo per Dante sono tutti quanti ficcati nel ghiaccio poi addirittura altri stanno come festucche in vetro cioè vengono riversati dentro il ghiaccio e sono completamente coperti allora Dante sempre accompagnato da Brigiglio vede una strana coppia sepolta nel gelo fin qui e quello che stava dietro all'altro mangiava la testa il cervello rosicchiava in continuazione gli faceva come da cappello e allora Dante lo interroga e questo è il conte Ugolino dice vedi mi sto mangiando il cranio dell'arcivescovo Ruggeri perché lui è stato a farmi rinchiudere nella torre detta oggi torre della fame a me miei due figli e due nipoti poi ci ha inchiodato la porta e ci ha fatto morire di fame e dice a Dante e se non piangi di che pianger suoli se non piangi il mio racconto che cosa ti commuove ma perché ho voluto fermarmi su questo punto perché voi sentirete dire che il conto Ugolino per la fame ha mangiato i figli c'è un verso di fatti che è oscuro poscia più che il dolore potè il digiuno cioè più che il dolore il digiuno mi fece talmente talmente cieco già era cieco ma cieco anche nel desiderio che io mi mangiai i figli ma non è vero perché era vecchissimo quando è stato rinchiuso nella torre quindi era adentulo non aveva nemmeno i denti ma poi il verso significa quasi chiaramente che più che il dolore mi ha ucciso il digiuno ecco quantunque Dante lascia spesso sospese queste cose poi da lì vedono un mostro enorme che è il capo dell'inferno è Lucifero cioè colui che portava le luci del Signore è stato invidioso di Dio e Dio lo ha sprofondato al centro dell'inferno a quei tempi si pensava che la terra fosse il centro dell'universo quindi era il centro dell'universo tutto girasse intorno alla terra cosa che invece non è e questo diavolo aveva tre teste e quindi tre bocche e dentro ogni bocca maciullava un peccatore chi sono i più grandi peccatori del mondo per Dante sono chi ha tradito la fiducia di chi ci ha fatto del bene allora il più grande traditore è Giuda perché ha tradito Gesù il maestro gli altri due sono Cassio e Bruto che hanno tradito Cesare il fondatore dell'impero chiesa ed impero per Dante erano i due soli che dovevano illuminare l'umanità e a un certo momento vede che questo li tiene in bocca e li maciulla e li maciulla li mastica a un certo punto Dante chiede a Virgilio ma adesso che facciamo dice non ti preoccupare perché da questo punto noi siamo discesi cominciamo a risalire perché dobbiamo andare verso il purgatorio allora si attaccano ai peli delle gambe di Lucifero e arrivano a un foro a rivedere le stelle sulla spiaggia del purgatorio e qui Dante rivedendo il cielo diventa astronomo come era e descrive i colori del cielo il dolce color d'oriental zaffiro ecco questo azzurrino della mattina presto e il tremolare della marina rivede il mare rivede le stelle la Divina Comedia è divisa in tre cantiche tutte e tre finiscono con la parola stelle e quindi uscimmo a rivedere le stelle l'inferno pronti e disposti a salire alle stelle il purgatorio l'amor che muove il sole e le altre stelle il paradiso il purgatorio è una montagna un cono tronco in cima ed è tutta la terra che si è sprofondata dall'inferno ed è passata lì quando Lucifero fu buttato giù da Dio e arrivò al centro della terra il guardiano di questo purgatorio è Catone Uticense che voi avrete studiato in storia Dante lo ammirava perché pure di salvare la sua autonomia ricorse al suicidio però certo è un po' strano che nel più cristiano dei regni il purgatorio ci sia un pagano e un suicida ma Dante però si è preso tante libertà e bisogna sapere che i poeti devono cantare non devono fare i conti da lì salgono e per ogni cerchio del purgatorio c'è un angelo che è il guardiano appena entra in purgatorio Dante e Virgilio l'angelo mette sette pi sulla fronte di Dante che sono i peccati capitali anche lì incontrerà parecchie persone interessanti ma soprattutto è bello sapere una cosa che Dante viene accompagnato da Virgilio il quale rappresenta la ragione ma a un certo punto del purgatorio si sente un terremoto e Dante si spaventa invece accadeva che ogni volta che un'anima si liberava perché era finito il tempo dell'espiazione e saliva al cielo tremava il monte e tutti quanti gli spiriti con un gaudio comune gridavano a Dio ringraziandolo e questo che si libera è Stazio un poeta romano antico che però era vissuto dopo la venuta di Gesù si era convertito al cristianessimo e rappresenta la fede vedete la ragione senza la fede non può procedere e quindi arrivano al paradiso terrestre dove Dio aveva creato Adam ed Eva e a riceverli nel paradiso terrestre è una certa Matelda quindi una donna e qui Dante fa delle descrizioni di alberi di colori di fiori di fiumi sembra quasi di tornare al tempo in cui Dante scriveva con lo stile dei poeti del dolce stil nuovo lì incontra Beatrice la quale poi lo accompagna per tutto il paradiso cominciando dal cielo della luna secondo i cieli che Dante e Beatrice scavalcano diciamo si arriva fino alla visione di Dio ma come sono queste anime come in paradiso come si presentano cosa c'è in paradiso in paradiso ci sono due cose che aumentano sempre in base alle beatitudini la luminosità e la bellezza della musica la bellezza del suono vi dico una cosa quando era in Purgatore Dante le prime anime che incontra le vede venire da una navicella guidata da un angelo che non remava coi remi come Caronte ma con le ali tutte le anime destinate al Purgatorio si ritrovano alla foce del Tevere da lì facendo tutto il giro del mondo l'angelo li porta in Purgatorio e la prima anima che incontra è Casella un musicista Dante era un musicista di fatti in inferno non c'è nessun musicista e il primo che incontra in Purgatorio è Casella e gli dice cantami qualche canzone perché io vengo da un luogo che mi ha fatto tanto soffrire e Casella che aveva musicato i versi di Dante sai il festival di Sanremo c'è oggi ma c'era anche allora i poeti scrivevano poi c'erano i musicisti che musicavano queste poesie e cantavano in pubblico niente c'è di nuovo sotto il sole oggi perché noi abbiamo la televisione che trasmette dovunque ma l'idea c'era già a quei tempi ma già Omero quando cantava l'Iliade si accompagnava con uno strumento a corde ecco il paradiso è un crescendo di beatitudine di bellezza musicale e di luce a un certo punto Dante vede il trionfo di Cristo siamo ormai verso proprio l'Empireo e dice per entro il cielo scese una facella cioè una luce formata in cerchi a guisa di corona e cinza le girossi intorno a della qualunque qualunque melodia più dolce suona qua giù e più a sé l'anima tira parrebbe nube che squarciata tuona comparata al sonar di quella lira anche le musiche più belle della terra sembrano tuoni di temporale riguardo alla musica celestiale e alla luce potente quando lui è ammesso di fronte a Dio alla fine del viaggio non regge la luminosità di Dio e non Beatrice ma San Bernardo di Chiaravalle chiederà alla Madonna di ammettere Dante alla visione di Dio e quando Dante vede Dio viene avvolto dalla forza del mistero e si può dire che perde i sensi perché si immerge in questa meraviglia in questo mistero all'alta fantasia qui mancò possa ma già volgeva il mio desire il velle siccome ruota che ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e l'alta stelle ecco concludiamo le stelle l'uomo è nato per le stelle viene dalle stelle ed è proiettato verso le stelle le Ulisse a rivedere le stelle pronte e disposte a salire alle stelle l'amor che muove il sole e le altre stelle quando studierete la Divina Commedia ragazzi ricordatevi che è la più grande avventura che un uomo potesse immaginare ed è la più moderna di tutte le opere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti